Lo psicoterapeuta dell'età evolutiva ha moltissimi ambiti, oltre a quelli specifici della clinica, anche tutti quelli importantissimi attualmente che riguardano la prevenzione. E anche qui noi abbiamo mediato dalla clinica il modello formativo della scuola, perché noi siamo presenti in 100 scuole di Roma come sportello di ascolto, oltre che altre scuole in Italia, e quindi abbiamo nella formazione, diamo un ampio spazio alla capacità di costruire un setting all'interno del contesto scolastico, quindi interagire con la classe, interagire con gli insegnanti, con l'istituzione, e stiamo sempre di più adattando il setting. Questo significa che, per esempio, all'interno della nostra scuola, gli allievi hanno da subito delle opportunità lavorativi, inizialmente come psicologi, poi come psicoterapeuti, e attualmente abbiamo un'equip di 20 psicologi solo per ciò che attiene agli sportelli scuola, oltre tutto il resto. Ovviamente lo psicologo dell'età evolutiva è presente anche in tanti altri ambiti istituzionali, come possono essere quelli ospedalieri, si sta sempre più inserendo la figura del terapeuta dell'età evolutiva nei vari reparti, nei reparti di emergenza, e l'altro settore importante, che sempre da noi deriva dalla clinica, è quella psicologia dell'emergenza, perché siamo stati presenti in tutte le situazioni degli ultimi anni, o terremoto, o disastri naturali, o incidenti all'interno delle scuole, quindi abbiamo costruito un setting, perché in questi casi noi abbiamo sempre lavorato con i bambini e i ragazzi all'interno delle scuole, e quindi anche lì si è costruito un setting particolare, quindi anche a questo viene data una particolare importanza. Per aiutare i giovani alla specializzazione, che oggi è un problema molto importante, la scuola offre delle borse di studio. Sono abbastanza numerose, perché riusciamo a dare 15 borse di studio ogni anno, e questo quindi, diciamo, la borsa di studio vale nei 4 anni, quindi significa un grosso calo della retta generale. E in più potranno lavorare? E diciamo quello che, grazie a tutte queste attività, è possibile, generalmente, a parte l'attività di tirocinio, di imparare, eccetera, i nostri elevi generalmente trovano da subito un'occupazione all'interno di queste attività, naturalmente prima in qualità più da psicologo e poi sempre più come persone specializzate, come può succedere al terzo o quarto anno, con le supervisioni e poi da psicoterapeuti.